respirare l'autunno la natura in questa stagione ci invita un viaggio dalla superficie alla profondità della dispersione al raccoglimento per compattare e rigenerare le nostre forze vitali e la nostra attenzione ecco una breve pratica che può aiutarti a respirare con l'autunno appoggia una mano sull'addome e una mano sul petto il petto le spalle completamente rilassate e immobili chiudi gli occhi distendi dagli angoli delle labbra per accennare un sorriso e senti il tuo respiro scivolare in profondità nell'addome il petto le spalle sono immobili e rilassate ad ogni inspirazione senti l'addome spandersi ad ogni espirazione ritrarsi qualche attimo semplicemente osserva il ritmo regolare tranquillo del tuo respiro l'alternanza dell'espansione della ritrazione del pieno e del vuoto comincia ora modulare il tuo respiro contando dentro di te nell'inaspirazione 1 2 3 4 nell'espirazione 1 2 3 4 e così via in aspira 1 2 3 4 e spira 1 2 3 4 e spira 1 2 3 4 e così via nell'ispira 1 2 3 4 nell'espirazione 1 2 3 4 e così via in dentro di te modulando il respiro in modo tale che in ispirazione ed ispirazione siano equivalenti fai attenzione nel proseguire con questa pratica che il respiro si mantenga nella profondità dell'addome mentre il torace e le spalle si mantengono immobili e rilassate bene bene benissimo torna ad ora ad osservare il respiro spontaneo rilassa le mani e le braccia semplicemente osserva l'aria fresca e leggera che entra nelle narici l'aria più densa e più calda che esce le sensazioni che affiorano immediatamente dopo aver fatto questa pratica ascolta e fai i tu e le parole dei saggi diventare grandi significa andare lontano andare lontano significa ritornare grazie per la tua attenzione se ti fa piacere lascia un commento è sempre gradito e per maggiori informazioni sullo yoga su misura visita passionayoga.it NAMASTE